Amici di Calcio Napoli 24, eccoci nuovamente nel nostro viaggio fra i quartieri e le vie di Napoli che si apprestano a festeggiare lo Scudetto. Siamo ai gradoni di Chiaia, quindi zona anche molto chic della città, dove gli abitanti della zona hanno voluto omaggiare la squadra di Luciano Spalletti con questa bellissima installazione e anche lunghissima. Ve lo assicuro che appunto adesso la vedremo tutta nella sua interezza con striscioni dedicati a ogni giocatore della Rosa del Napoli dal primo all'ultimo, da Gollini fino all'ultimo dei giocatori in attacco. Ora vediamo qui appunto Kim Min-J, saliamo sempre di più, c'è Mario Rui, vi ripeto che la salita è molto lunga e ricca di striscioni da vedere. Ecco qui invece Mario Rui dedicato al portoghese anima dello spogliatoio azzurro e nonché anche, diciamo, leader un po' emotivo insieme a Giovanni Di Lorenzo. Poi Bartosz Beresinski, finora solo una presenza per lui in Coppa d'Italia, in Stanislav Lopotka, in pola centralina del centrocampo partenopeo. E ora è il turno di Zambuanghi, sapete? Anche delle piccole immagini dedicate ai giocatori sul lato. Qui vedete in destra c'è Via Nardones, Elif Elmas con il numero 7, poi ovviamente Cricciac Varaschelia, Giacomo Raspadori, Luciano Spalletti e anche poi Lo Scudetto con Diego Armando Maradona, poi il nome di Giovanni Simeone e via discorrendo tutti quanti fino ad arrivare agli ultimi che sono Giovanni Di Lorenzo e Diego Nelle.